MAGICOLO MAGICOLO Ciao a tutti ragazzi, sono sempre MAGICOLO e benvenuti in un nuovo video dove vi dico, dove vi mostro qualcosa di straordinario ma veramente questa volta qualcosa che sono rimasto così sconcertato che non so neanche io cosa stavo vedendo benissimo ragazzi, allora come vedete siamo su Steam e niente perché vi devo far vedere ovviamente qualcosa di straordinario di pazzesco ovviamente su Steam durante le feste e cose del genere si trovano sconti pazzeschi ovviamente ma questo sconto che vedete ora è qualcosa di allucinante, molto semplice perché si parla di Unreal Tournament Unreal Tournament 5 giochi al prezzo di, avete visto 5 giochi giochi tutti praticamente tutti i giochi di Unreal Tournament da Unreal Gold a Unreal 2 2004, 2003, Unreal Game of the Year incredibile ragazzi che già, vabbè, ovviamente Steam li vende al prezzo base 15€, 10€ che è troppo però ovviamente in questi periodi gli sconta con l'80-80% di sconto fino a 2,99€ 1,99€ beh ragazzi, questi prezzi sono anche corretti diciamo, ma quando arrivano queste super feste con il Dial Pack, ma che non è solo Paralien, ma ci sono anche altri giochi ragazzi, guardate un attimo il prezzo quanto arriva da 13,95€ per tutti quanti abbiamo uno sconto di 10€ ragazzi e arriviamo a 3,69€ com'è possibile una cosa del genere? cioè ragazzi, veramente tutto questo è pazzesco ragazzi io ovviamente non sono stato per nulla pagato e non mi è nemmeno stato detto di dire queste cose né da Steam né da nessun altro però voglio dire io ho preso tutto e ovviamente vi porterò a RealTarm, ma devo dire che è tutto così pazzesco che non credo neanche sia vero spero di che non mi abbiano truffato è tutto